Grazie al progetto europeo Urban Wings, la città di Torino intende dare un suo contributo concreto alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per questo ha elaborato e messo in atto alcune azioni. Intanto l'installazione di una fontanella d'acqua refrigerata presso la sede dell'anagrafe centrale, questo per ridurre l'uso della plastica, per ridurre anche l'emissione di anidride carbonica nell'atmosfera, poi la creazione di piccoli sistemi di economia circolare attraverso la diffusione di informazione per i cittadini, per le imprese, per i professionisti sul riuso, sul riutilizzo dei materiali e poi anche la definizione di criteri, di linee guida ambientali corretti per l'organizzazione di manifestazioni che coinvolgano molte persone come per esempio concerti e manifestazioni. Noi vogliamo occuparci della riduzione dei rifiuti, del risparmio dell'energia che sono anche le tematiche chiave del progetto europeo Urban Wings e sono collegate alle politiche ambientali della città. Vogliamo favorire lo scambio di idee innovative con i partner progettuali europei e tutto questo sicuramente sarà una grande opportunità per favorire la diffusione di una cultura di sostenibilità ambientale. Grazie per la visione!